Ciao a tutti amici di Minecraft Italia, oggi voglio mostrarvi questo snapshot in 13v18b hanno aggiunto pochi blocchi ma molto belli e hanno fatto un cambiamento nel sistema delle texture della gestione delle texture, non so cosa significhi ma so che comunque molti di voi potrebbero avere dei problemi a che fare con l'animazione e texture infatti io non ho faccia, sono tipo uomo bianco, niente, insomma non ho faccia e alcune volte tipo il fuoco non ha animazione ma dettagli, dettagli e vabbè tanto queste cose poi le aggiusteranno ma andiamo a vedere subito che cosa hanno aggiunto in questo nuovo snapshot allora innanzitutto mettiamo il giorno, perfetto, prima di incominciare col dirvi delle novità diciamo più materiali voglio prima annunciarvi che da d'ora in poi i cavalli possono essere scavalcati solamente con la sera del maiale quindi la sera del cavallo non esiste più e come vedete qua dall'inventario la sera dei cavalli doveva essere qua e in realtà adesso c'è solamente questa di maiale che si può trovare nei dungeon a proposito di dungeon sono state aumentate il numero di casse trovabili nei dungeon e soprattutto sono state aggiunte la possibilità di trovare delle casse nelle fortezze del nether questa è una bellissima cosa perché adesso anche nel nether c'è qualcosa altro di interessante da trovare oltre che il quarzo che è comunque un bellissimo materiale come voi potete sapere e poi ho modificato anche il sistema dello zombie che spawnano un altro zombie rendendolo in maniera diversa anche se non so in che modo perché ho testato ma a quanto pare boh sembra che i zombie non spawnano più altri zombie cioè sembra che la cosa sia stata rimossa ma in realtà dovrebbe essere stata migliorata e non lo so comunque se non sapete di che cosa sto parlando la versione precedente di uno snapshot hanno aggiunto la possibilità di far spawnare più zombie inoltre che uno zombie prende un danno insomma era fatto abbastanza male e niente adesso possiamo passare ai 9 oggetti ah prima volevo dirvi che i tappeti adesso possono essere posizionati anche sopra la glowstone perché prima gli oggetti luminosi non potevano avere sopra i tappeti non potevano essere ricoperti da tappeti invece con questa versione può essere fatto ok basta 9 blocchi allora ha aggiunto il crafting per i blocchi di paglia e soprattutto per i lacci allora vediamo un po' come si craftano i blocchi di paglia e soprattutto un nuovo materiale che è il blocco di carbone che è questo qua ragazzi il blocco di carbone è veramente bello secondo me è una bella cosa e si crafta in modo veramente semplice ma soprattutto ha una durata molto molto lunga nella fornace e quindi andiamo a vedere subito come si crafta allora il blocco di paglia si crafta in questo modo ovviamente con il grano messo così nella workbench e quindi ci formerà questa hay block che sarebbe la paglia e invece il blocco di carbone può essere craftato in questo modo lo stesso tipo di crafting per il blocco di paglia ma solamente col carbone e notare bene non può essere fatto col circolo, col carbone, la carbonella insomma solamente col carbone normale questo blocco di carbone guardate quanto dura dentro la fornace anzi guardate lo metto di qua ecco questo blocco di carbone durerà un sacco ragazzi non so se riesce ad arrivare fino a 64 di oggetti riesce a affondo ai 64 di oggetti ma più di 30 sicuro poco ma sicuro tanto non aspettiamo un pochino e vediamo poi quanto arriva poi il sistema di crafting per il laccio è abbastanza complicato diciamo da solo non ci sei mai arrivato se non avessi visto qualcun altro farlo perché cioè inizialmente avevo pensato alla pelle però poi mi sono accorto che non era così perché appunto non funzionava ma si crafta in questo modo guardate allora la stringa cioè il lead diciamo il laccio si crafta con le stringhe di ragnatela e una slime ball messa in questo modo ne craftano esattamente due quindi in questo modo se ne craftano due e niente queste sono le principali novità quindi ricapitolando hanno messo un nuovo sistema di gestione delle texture anche se non so cosa voglia dire hanno diciamo risolto alcuni bug hanno messo la possibilità di poter mettere i nostri bellissimi tappetini inutili sui blocchi luminosi come la glowstone oppure la redstone lamp perché prima non era possibile farlo hanno aggiunto un blocco di carbone che si crafta in questo modo hanno aggiunto il crafting per il blocco di paglia che si crafta in quest'altro modo e hanno aggiunto la possibilità di craftare appunto i lacci in questo modo qua con le stringhe e la slime ball quindi è una cosa molto semplice e soprattutto hanno reso più difficile il sistema dei cavalli nel senso di trovare armature perché anche quelle lì devono essere trovate nei dungeon lo stesso vale per appunto come ho detto prima le selle per i cavalli che sono le stesse per i maiali e poi hanno messo delle casse nel nether altra cosa molto importante è la possibilità dalla versione 1.6 ufficiale che poi rilasciano non so quando oppure dalla 1.5.3 o 1.5.5 non so varie versioni che metteranno la possibilità di poter comprare dei server direttamente dalla Mojang quindi dei server gestiti da loro che sono secondo me molto affidabili saranno molto affidabili e secondo me avranno anche un prezzo molto basso quindi questa è una bellissima idea hanno detto che è un'idea soprattutto per le persone che vogliono fare un piccolo server con gli amici quindi è perfetto per me perché io più che altro non avrei neanche tempo di gestire un server grande per tante persone però niente tanto per avvertirvi ah ovviamente ragazzi è uscita la versione 1.5.2 di minecraft che hanno risolto molti bug dice many many bug fix e boh non so quali bug siano ma vabbè tanto si sa minecraft è pieno di bug e ci sarà un momento in cui non ci saranno bug? no forse nella versione 2.0 secondo me faranno un gioco pulito senza neanche un fottutissimo bug e io ci tengo molto la versione 2.0 voi che ne pensate? cosa potrebbe esserci nella versione 2.0? io vorrei vedere soprattutto dei nuovi tipi di minerali come ho detto nel mio video dello scorso snapshot ovvero per esempio il rubino o qualche pietra strana oppure il poter utilizzare lo smeraldo in qualsiasi altro modo come incastonarlo nell'armatura come mi ha detto un iscritto sotto come risposta al mio video oppure non so la possibilità di fondere dei minerali di fondere dei minerali dei metalli e poter creare uno più potente anche più potente del diamante perché no? per tipo fondere il diamante con lo smeraldo e creare lo smerdiamante brutto però vabbè avete capito il concetto bene ragazzi quindi questo è tutto vediamo adesso a che punto è il fuoco se si è spento del blocco di carbone e no ancora ragazzi non si è spento siamo a 31 quindi questo blocco di carbone secondo me è molto molto conveniente molto utile e soprattutto non ti fa occupare troppo spazio perché poi dopo un po' il carbone si accumula troppo e quindi con questo sistema possiamo anche mettere già gestire meglio le nostre risorse bene ragazzi quindi questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti amici di Minecraft Italia sono Menzis Drake e oggi ho la skin dello milo Michelin perché ma che cazzo sta a dire